No. Sì. No perché fa views, fai la tosse, fai la tosse. Ah, la tosse fa views. Oh grazie mille, sono uno scherzo di... Ciao. What? Ragazzi anche questo mese c'è un bellissimo giveaway offerto dai amici di Instant Gaming per voi. Avete 12 giorni di tempo per partecipare? Potete vincere qualsiasi gioco volete, anche dei FIFA Points oppure dei pacchetti di Fortnite. Una volta scelto il vostro gioco basta fare partecipa e più cose fatte di queste qui, per esempio seguirmi su Instagram o seguire la loro pagina Instagram, più possibilità avete di vincere. Quindi buona fortuna, partecipate tutti e condividetelo. Come siete ed ho spero come sempre alla grandissima ragazzi. Oggi vi porto un altro episodio in cui vado a reagire agli streamer con zio spettatori o con pochissimi spettatori. E vi dico ragazzi, se questo video arriva a 10.000 pollicioni su domenica prossima, dalle 19 in poi, starò su Twitch a guardare tutti voi, tutti quelli che vogliono entrare nel team. E dopodiché ci faccio un video e lo porto qua sul canale, quindi questo rimane a voi. Detto questo, ora mettetevi super super comodi, prendete la vostra cocola, popcorn ed ora sì, come sempre, let's go. Allora ragazzi, iniziamo subito con questo primo streamer che ha tre spettatori, tra cui uno sarò io. Il titolo della live è, in che team entro? Vediamo cosa dice. Grazie per l'iscrizione, Los Amigos. Li scrivo, hola, in che team vuoi entrare? Non credo mai che sia quello vero. Sono quello vero, sono verifichetta, aspettate che mi sposto perché se no lo vedete. Nooo, è Los Amigos è live. In che team vuoi entrare? È buono, è loro. Nel loro chi? Non so se ti troppo rinzazzo. In Samsung, non sono più nei Samsung. Ci sono gli 11M adesso, gli 11 Monkeys. Bravo, bravo. E' nel Monkeys. Bravo, bravo. È aggiornato, sa che adesso ci sono gli 11 Monkeys. Vediamo, iniziano subito a fightare. Questo è lo start. Dietro? Quindi ci sarà un po' di action adesso. Uh, si è preso un hit da... Boh, non lo so. Ai, 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 ha tirato giù il suo amico. Allora, vediamo se è la claccia, ragazzi. Sembra abbastanza... Cioè, che sa giocare, no? Vedete che c'è l'insensi. Vediamo se riesce... Eccolo lì. Se riesci a trovare un pump, devi trovare un pump. Se no, è solo bisduo. Scriviamoli. Clacciala. Scriviamoli un po' di pressione. Eccoli, li sento. Sono da qualche parte qui. Come se la caverà contro questo solo bisduo. Esatto, vedi, il tuo amico ne sa. Sceglie di spaccare il muro. Non riesce a riprendere. L'occhio che esce, infatti è uscito. Sono in due. Riesce a coprirlo, però. Riesce a tenere l'high ground. L'occhio che sta risalendo. L'ho missa... C'è la sola a destra, c'è la sola a sinistra. Deve stare attento. Non riuscirò mai a fare... Continua a tenere l'high ground. Vai, adesso. Oh, dai, ha missato tutto. Ha missato, ha missato tutti i colpi. Però non mi sembrano molto svegli. Perciò ce la puoi fare. Uff, vai, vai così, vai così. Copriti. È lì dentro. Mitraglietta, mitraglietta che lo sciogli. Dai. Oh, oh. Missa ancora. Non ho più... Io non... Anche io li ho finite. Non ha più materiali. Deve scendere, deve andare giù, deve scappare. Senza materiale non può fare quasi niente. Vediamo qua. Sta scendendo, ok. Occhio, ecco. Sono in due. Li fa 28 blu. Continua a scappare. Non gira... Eh, qua ti devi girare perché ti verrà dietro. Eh, sì. Uff. Vai così. Vai così. 21 blu di nuovo. Non sono per niente svegli. Eh, bravissimo. Vai, fatti... Oh, no. Peccato, bro. Allora, ragazzi, andiamo da Milo F45 che c'ha tre spettatori, tra cui uno sono io. Sta giocando in arena e vediamo come se la gioca. Una cosa, idea del green screen, ottima, eh. Ci sta. Detto che questo è super concentrato, cioè, guardate la faccia. Full immersion. Oh! Allora, gli do il follow e gli scrivo. Però, oh, gli fa 70. Ok. La mira c'è. 42 one shot, praticamente. Dagli una picconata. Ok, si è fatto anche la terza chi sta giocando in arena. 430 punti, quindi sono abbastanza... Qui mi ha salutato. Legge la chat molto bene. Ti ho scritto, dai che fai una bella win con 20 bombs. C'è un cecchino in giro. E non sono io, quindi... Oh! What? E questo? No, no, non mi puoi morire. Non mi... Ma babba. Gli ho portato sfiga, ragazzi. Catto per mille. È durato... Allora, ragazzi, sono appena entrato e mi trovo all'endgame. Siamo due spettatori e... Enti, Enti. Scriviamolo, Enti. Dai. Ragazzi, vediamo se la vince così. Gliene mancano solo quattro, eh. Sì? Due? No, è l'ultimo. Ah, no, è l'ultimo. One vs one. One vs one. Vediamo il nostro Enti come... È super teso. Super concentrato. È ninja contro. C'è ninja contro. Oh, che bello entrare dritto, dritto in un endgame. Però siete one vs one. Ha cinque kills. Dai, vai. Ucciso. L'hai tratto, è caduto. Che ha fatto? Dai, che ninja te lo uccidi. Vai, che ninja te lo uccidi lì. Fa 21 blu. C'è lancia razzi, c'è. È una easy win. Alla ground. È una easy, easy, easy win. Non ha guardato neanche la chat, giustamente, perché non è il momento di guardare la chat, ma di concentrarsi. Vediamolo. Vediamolo. Si è messo il pavimento sopra, non ho capito, non ho capito. Uh, stai attento, stai attento. Che tipo... No. Sì. Vai, va. Chiunque sia, non me lo disturbate che è all'endgame, cioè. Esatto. Un attimo. Mi manca l'ultimo. Lui si è fatto prendere la high ground. Vediamo adesso come se lo gestisce. È dentro il box. Sta ricaricando il lancia razzi. È solo 7 razzi. E va tipo 11, 12. Ne hanno usati veramente parecchi. Stai attento. Ragazzi, 1v1, eh. Uh. Stai attento, anche lui c'è un lancia razzi, quindi... Oh my god. È sopra adesso, li sta sparando. Mamma mia. Ha messo una trappola lì. Eh, ma si è fatto prendere l'altezza. Deve riuscire... Deve rivaldare la situazione. Si è fatto prendere l'altezza. Vai, vediamo se riesce a tirarla giù. Vai su, vai su, vai su. Bravissimo. L'ho missa. Dai, ancora un piano, ancora un piano. Scale, scale. No, gliela potevi prendere due scale lì. E li andavi direttamente sopra la testa. Oh, oh, oh. Gigi. Tra l'altro gioca con le cuffiette del cellulare. No. Sì. No, aspetta. Oh, Zeus è quello vero? No. Sono io, sono io. C'è verificato, sono io l'edizione. No, è vero. Raga, forse vado nei video di Los Amigos. Ha inviato, ha inviato un audio ai suoi amici. Ciao. What? Va bene, raga, io direi di andare a cercare qualcun altro. Raga, allora, sono appena entrato. Mi incuriosisce perché c'è il bollino rosso. Guardiamo un pelino. Che succede? Che sta succedendo? Angel, Angel Demon. Raga, io spero che sto bollino rosso, cioè, se c'è qualcosa di indecente, non lo metto. Non lo state vedendo nel video. Fabi la tosse, Fabi la tosse, Fabi. No, perché Fabius, fai la tosse, fai la tosse. Ah, la tosse Fabius. Ditemi nei commenti secondo voi cos'è quel bollino rosso. Cosa succede qua dentro? Allora, ragazzi, chiudiamola con lui. Ci siamo, siamo in dieci. Spettatore, ma è tra gli ultimi che ha la facecam ed è in in-game. Vediamo se la gufiamo. Sono in sei, con lui compreso. Vediamo un pochino. Hai gli sceltini, puoi scendere, puoi curarti, puoi far tutto. Gioca da control? No, gioca da PC. Non ha letto il messaggio, ti prego. Oh, fai, fai. Bravissimo. Bravissimo. Vai, vai, vai a curarlo, vai a curarlo. Non ce la fa, 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 non ce la fa. Raga, non gliel'ho fatta, quasi, ma no. Ah, ecco qua. Grazie a follow, l'os amico. Ah, eh, sono uscito. No, ma sei serio? Oddio. Sì, sì, sono verificato. Mi state pianto per il culo. Finalmente qualcuno che capisce che è verificato vuol dire che sono io. Non lo so, ragazzi, quello è vero. Solo che mi sto andando a dos. Oh, grazie mille, sono uno scherzo di... Non guardate, no, guardami, guardami, che sono fortissimo. Vediamo, ragazzi, se riusciranno. Sono rimasti in cinque, vuol dire che devono eliminare solamente tre nemici. Dovrebbero, secondo me, andare verso l'hidrop, trovare le cure, curarsi, tanto quelli si fanno i cavoli loro. Invece no, vogliono ucciderli così. È una strategia, eh, perché mentre sono distratti potete approfittare e ucciderli gli ultimi tre. Però... Eh, se non riuscite a ucciderli... Vediamo un pochino. Sono fuori dalla tempesta, ragazzi. Ragazzi, potrebbero vincere questa partita stando qua fermi. Non c'è nessuno in safe, sono tutti fuori dalla tempesta. Raga, ne rimane uno. Chissà dove è nascosto. Se vince questo da solo sarebbe veramente epico. Se quello da solo vincere, ragazzi... Lo aggiungo agli amici. Ah, tra l'altro, lui è in safe, ragazzi. Occhio! Magari gli fa una cecchienata inaspettata. Si è chiuso lì. Gli ha fatto 30. Sta prendendo l'i-ground, però ce l'ha lui l'i-ground. Ah, non è riuscito a prendere l'i-ground. Vediamo se il suo compagno riesce. Ragazzi, non so cosa sta succedendo. Si nasconde nel cespuglio. Lo stanno per far cadere. La tecnica di tirarlo giù. Ma mi sa che è attaccato a tante cose. E hanno vinto. Non si sa come. Non ho fatto un c***o. Ragazzi, io spero che vi siate divertiti. Come sempre. Si scopre sempre gente nuova. Mi raccomando, lasciate il vostro pollicione in su. Per un altro episodio. E soprattutto, per vedere voi che volete entrare nel team. Noi ci vediamo domani sempre qua sul canale. Fate così, buon amici. Via, ragazzi! Via, ragazzi!